Ciao e benvenuti in MyFootballJersey. Io sono Stefano e qui con me c'è Edoardo. Ciao! Oggi vi vogliamo far vedere le differenze tra la versione player e la versione fan della maglia del Real Madrid casalinga della stagione 21-22. Intanto fatemi dire che non parliamo di una maglia vera o falsa, ma semplicemente di due versioni diverse della stessa maglia. Nella versione fan lo stemma del Real Madrid e il logo sono ricamati, mentre nella versione player questi sono termosaldati, il che assicura un maggiore comfort al giocatore. Nella versione player la trama della maglia è molto più evidente, brillante e ricercata. Nella versione fan, sebbene originale, non è presente l'etichetta di autenticità. Le due versioni utilizzano inoltre una tecnologia diversa. Nella versione fan il fascione è completamente bianco, mentre nella player è azzurro come i richiami della maglia. Qui si può vedere la diversa lavorazione del colletto tra le due versioni. Sempre per ragioni di comfort, nella versione player le tre strisce adidas sono termosaldate, mentre nella versione fan sono cucite. La lavorazione delle maniche è in linea con quella del colletto. Vicino al colletto della versione player è presente questa grafica a spirale ispirata alla fontana di Cibeles. Anche sul retro della maglia è visibile come la lavorazione della player sia più marcata ed evidente. Spero il video vi sia piaciuto e spero di vedervi presto al prossimo appuntamento. Prima di lasciarvi vi ricordo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Alla prossima! Ciao! Ciao!